Peggy 18 merda ti salutano i KPC pezzo di merda Sto facendo il video curate curate lo curate lo curate la numero correcita curate lo vabbè tre l'abbiamo a portire tutti a morfi alle fine copri le scale un attimo non entrano entra google perché sparavano le finestre dietro la casa verde dentro noi dietro 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 la rossa casa rossa e adesso è andato dietro la casa rossa ok contatto nemico quello è quello che davanti mi raccomando ma non c'era lì attaccato si è poco in roma e quando si è brutto quindi così per te mi dimmi entro bar a pieno di sotto ma io sono barri e sottopare che caccia di meno che entra raga ho 3k gb intorno mi spiace un po di sparere in culo morfino puoi tranquilli guarda mi metto anche giù guarda qui vieni divertiti intanto sloggo ci vediamo dopo sono io sono io sono io lascio in su fate voi torno tra poco vado prendere bene vieni su vieni su qualcuno controlli la entrata fate quello che volete ah il controllo è bella mi raccomando se entrate nella casa verde quella dove abbiamo dove sparta hanno ucciso tre persone dite lo addio sto mirando alla porta vado nell'altra camera allora kande vai a coprire un attimo no copri l'entrata se riesci oh quella m4 è regular fa vedere metti giù un attimo fa vedere morfo c'ho la manetta presteam eh danny questa sera ci si diverte di nuovo raga ho il kgb intorno sono in quattro mi stanno ammanettando lo vedo è fuori dal bar oh mi ha becchiato mi ha becchiato mi hanno ucciso ragazzi sta la casa rossa dirgo la casa verde l'ho ucciso raga c'è Beo con il kgb dove stanno però non c'è tanto la posizione ancora che coniglio sei un coniglio Beo dove stanno dietro al bar era era dietro al bar morfo la posizione per favore no lasciate stare che si sta divertendo con Beo mamma dove dici dove è Beo dietro al bar dal tunnel no 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 io voglio sapere quelli che stanno ammanettando morfo ciao morfo vi dirò a fuori la roba dal inventario ciao ma morfo che è il video che stanno facendo il video e arriviamo a rompergli il culo mentre da ammanetta no no lascia lascia chi è che sei in bar adesso? c'è un bambi che sta rotolando in mezzo alla strada e indovina chi è? ah cazzo sei tu? hai uno zombie? si oh mo io pure ti ho tirato la roba fuori dall'inventario Matt dimmi che frustrati devo svuotarmi il corpo si grazie ecco ma sono dei poveretti sti qua ma veramente ragazzi no non ce n'è nessuno di dichiante a te sono proprio dei poveretti frustrati non vedono l'ora non c'è uno di dichiante a te che può farlo mamma mia chi c'è al bar? sono io al bar ok allora svuota il corpo di banana c'è anche quei ggb si sono alleati si vabbè ma questo è proprio Beo che è una merda di uomo dai ragazzi tutti i cittoni ragazzi non è ancora terminato il pvp vi chiedo gentilmente ancora un attimo di silenzio comunque ho fatto il video così ci divertiamo poi a metterlo online anche questo bella figura di Beo ancora una volta che coniglio che persona di merda ragazzi sta provando a stringere alleanze con tutti i clan perchè loro non ce la fanno si è il bello che non ci presento ok vedo un player ragazzi alla 3 line sei nel tuo viola dai slob che torno lì io sono io zainetto viola si si quando volete dimmi quando volete no hai finito di fare lo spaccone nel tuo server a toccare tutti appena qualcuno vi ammazza fai crashare il server no non è così solo così sai giocare si esatto solo così va bene poi si si vuoi mettere questo è entrato un altro kgb ma si ma si ma si altro da dire un nuovo entity ovviamente un m4 che c'è la gara per chi lo vuole cosa dovete fare cosa dovete farmi non capisco spiegate almeno le armi eh spiegate su almeno le armi e portatele un attimo sto andando a prendere il mio cadavere se prendete la roba dal mio cadavere dov'è il coniglio di Beo? va a tenere qui il coniglio magari ammanettato mi parla coniglio i zombie aggrado ah è mio la sventola abbiamo altri contatti dai dai stiamo aspettando i tuoi amici qua no non vengono tranquillo non vengono dovete che li ammazzo io tutti non vengono è tranquillo che non vengono è stato ucciso non vengono è stato ucciso non abbiamo altri contatti e che cari hai fame? hai fame? vuoi qualcosa? no grazie un po' slow sto andando al bar eh no che te lo? perchè te lo? eh devo andare a letto faccio il video del salvataggio non siamo coglioni come loro non riescono a salvar il capo no eh uè mi dispiace no dai 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 non sloccare eh ma conta che loro c'hanno i peggiosi facci compagnia un'altra poco dai abbiamo i peggiosi io va bene dai vaffanculo morti vieni dentro la casa verde e sei ancora ricadato fermi pure il mitra di bambino qua non so che muore ragazzi sono mio mio sono ufficialmente dei coglioni mi hanno ucciso con l'arma citata parla no no pezzo di me e continuano c'è un bambi ragazzi bambi nel sottopasso io io tutto ciò ci da solo che ragione ragazzi solo che ragione ancora una volta perchè ti ho sparato per 5 minuti di segre esatto che coglioni va bene fine del video che il bambi qu'è tappi all'uva